Ciao, benvenuti a tutti e benvenuti su questo canale. E oggi diremo una preghiera chiedendo la benedizione e la protezione di Santa Caterina da Siena, preghiamo. Santa Caterina da Siena, prega per noi e benedici le nostre case. Chiediamo la vostra protezione e sostegno, affinché siamo sempre circondati dall'amore divino. La tua intercessione ci guidi sui sentieri della pace, della concordia e della fede. Possano l'unità e il rispetto reciproco regnare nelle nostre case e possiamo essere rafforzati nei momenti di difficoltà. Santa Caterina da Siena, veglia su di noi e diffondi le tue benedizioni su tutti coloro che cercano il tuo aiuto. Amen. Grazie a tutti.